Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Oggi vorrei fare un video recensione, volevo parlarvi in particolare di questo mascara che mi è stato regalato perché se avete visto qualche mio video precedente sapete che io sono fedelissima al mascara L'Oreal resistente all'acqua in particolare questo qua, io utilizzo sempre questo, però in questo caso il mascara mi è stato regalato e siccome anche questo è resistente all'acqua ho voluto provarlo. Devo dire che è un mascara veramente molto bello col quale mi sono trovata molto bene ma c'è un però perché sul fatto che sia davvero resistente all'acqua ho cominciato ad avere qualche dubbio da subito e poi ho fatto la mia classica prova su strada che ahimè non è stata superata ma andiamo con ordine prima di tutto vi parlo del mascara in sé questo mi è piaciuto tantissimo soprattutto per il tipo di scovolino che ha perché con questo scovolino che è fatto in questo modo spero che riusciate a vederlo bene è fatto praticamente a cono vedete ha la parte ristretta sulla punta e poi si allarga questo praticamente permette di dare molto più volume alle ciglia perché avendo questa parte ristretta quando voi andate nell'angolo interno dell'occhio e cominciate ad applicare il mascara vi renderete conto che uno scovolino di questo genere riesce veramente a dividere bene le ciglia e a dargli volume quindi in questo senso io mi sono trovata veramente benissimo ho adorato questo scovolino da subito è veramente meraviglioso fatto così quindi il mascara è veramente ottimo ha una buona coprenza lascia le ciglia effettivamente separate tra di loro dà molto volume ma ahimè non è resistente all'acqua quindi viene venduto come un mascara waterproof ma in realtà non lo è e io siccome non voglio che vi fidiate solo ed esclusivamente della mia parola ma voglio proprio dimostrarvi perché non è resistente all'acqua ho pensato di fare insieme a voi la classica prova su strada quindi adesso io metterò un pochino di mascara sulla mia mano quindi molto semplicemente lo metterò così eccolo qua l'ho messo sulla mano adesso aspettiamo un pochino che si asciughi e poi facciamo la prova con l'acqua e andiamo a vedere che effettivamente non è resistente all'acqua per farvi vedere la differenza e che cosa intendo io per un mascara veramente resistente all'acqua facciamo la prova anche con il mio fedele L'Oreal quindi anche con questo andrò ad applicare un pochino di mascara sulla mano in questo caso utilizzerò la mano destra aspettiamo che si asciughi anche qui e vi dimostrerò cosa significa avere un mascara che è veramente resistente all'acqua questo sono già sicura che resisterà all'acqua perché l'ho già provato avevo anche già fatto un video in cui vi faccio proprio vedere la differenza tra i vari tipi di mascara magari ve lo lascio nelle schede questo tipo di video così se vi interessa potete andarlo a vedere avevo messo a confronto alcune tipologie di mascara ma in questo video andiamo a vedere come si comporta questo qui della Bionike quindi io ho i dischetti di cotone qua con me ho preso un pochino d'acqua che ho messo in questo recipiente tanto per praticità e adesso andiamo a vedere insieme che cosa succede prima di tutto andiamo a vedere insieme se il mascara si è veramente asciugato per vederlo prendiamo il dischetto di cotone e lo andiamo a mettere sopra la mano così in modo da capire e direi che è perfettamente asciutto perché il dischetto è rimasto bianco la stessa cosa facciamo con l'altra mano ecco qua vedete è rimasto bianco quindi significa che il mascara si è asciugato adesso andiamo a provare e vediamo che cosa succede adesso metterò il dischetto di cotone all'interno dell'acqua in modo da poter fare la prova che vi dicevo prima questo è il mascara Bionike andiamo a vedere cosa succede questo è un dischetto di cotone imbevuto nell'acqua vediamo un po' se davvero resiste all'acqua guardate la prima cosa che salta all'occhio è il fatto che io ho passato l'acqua sul mascara e il dischetto si è smacchiato di mascara quindi significa che tanto resistente evidentemente non è ma noi insistiamo e vediamo che cosa succede guardate è venuto completamente via questo significa che un mascara che viene venduto come waterproof e fa un lavoro di questo genere sicuramente non è un mascara waterproof adesso io vi voglio dimostrare che cosa significa avere un mascara che davvero è waterproof quindi facciamo lo stesso lavoro di prima io metto il dischetto di cotone all'interno dell'acqua e andiamo a vedere come si comporta il mascara di L'Oreal quindi vado a passare il dischetto di cotone sulla mano con il mascara questo qui di L'Oreal e vedrete che non viene via quindi io vado a passare sopra il dischetto guardate vedete che non viene via io sto passando più volte e sto anche premendo abbastanza perché voglio proprio dimostrare cosa significa guardate il dischetto è completamente pulito e il mascara è ancora sulla mano quindi in conclusione questo è un ottimo mascara perché dà alle ciglia volume riesce a separarle non le attacca tra di loro ha uno scovolino che è veramente fantastico è quasi rivoluzionario nell'applicazione perché con questo scovolino con questa forma particolare veramente mi è piaciuto tantissimo però la caratteristica che promette di avere e cioè waterproof non viene rispettata perché in realtà come avete visto voi stessi non è veramente resistente all'acqua quindi se cercate un mascara che resista all'acqua orientatevi sicuramente sull'Oreal e non su questo perché questo non resiste però se non vi interessa la resistenza all'acqua ma vi interessa soltanto l'effetto volume vi interessa un'applicazione particolare con questo scovolino che è veramente fantastico allora io ve lo consiglio perché comunque è un ottimo mascara però attenzione perché se pensate che resista all'acqua così non è perché in realtà non resiste per il resto è sicuramente come dicevo un ottimo mascara però io volevo anche fare una riflessione su tutti questi prodotti che vengono venduti quindi ci vengono promesse delle caratteristiche particolari poi in realtà queste caratteristiche non ci sono quindi io mi sento anche un po' ingannata devo dire la verità perché se vado in un negozio acquisto un mascara che pensando che sia resistente all'acqua e poi mi accorgo che non lo è sinceramente un po' mi scoccia perché comunque l'ho pagato ho speso dei soldi e poi mi ritrovo con delle cose che in realtà non dovrebbero esserci io ovviamente per evitare che succeda questo prima di acquistare un mascara se vado in negozio mi faccio sempre dare il tester il dischetto di cotone imbevuto nell'acqua e faccio sempre la prova se succede quello che è appena successo in questo video ovviamente non lo compro in questo caso mi è stato regalato quindi io non ho avuto la possibilità di provarlo essendo un regalo va bene nel senso va benissimo però è una di quelle cose che comunque non andrò a riacquistare se quello che mi interesserà sarà il fatto che resista all'acqua ovviamente è come dicevo un ottimo mascara per tutto il resto ma quella caratteristica non ce l'ha quindi insomma questa è la mia recensione diciamo che è un prodotto che mi è piaciuto è un prodotto che sicuramente è di alto livello ma ahimè non mantiene proprio tutto quello che promette ma solo una parte quindi insomma sono soddisfatta ma solo a metà questa ovviamente è la mia opinione però oltre all'opinione c'è stato anche un dato oggettivo perché la prova l'abbiamo fatta veramente quindi insomma direi che c'è poco da discutere nel senso che se passiamo l'acqua sulla mano e il mascara viene via vuol dire che non resiste all'acqua in questo caso abbiamo passato l'acqua e comunque il mascara non è venuto via quindi insomma questi sono dati oggettivi dove c'è diciamo poco margine di opinione personale questo è qua è venuto via e qua no quindi le cose stanno così io mi fermo con questo video vi invito a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate se avete provato questo mascara se vi è mai capitato di acquistare un mascara che veniva diciamo venduto come resistente all'acqua poi in realtà non ha resistito perché poi ci sono anche quelle situazioni un po fastidiose se andate in piscina vi ritrovate comunque tutto il mascara che cola sul viso e non è sicuramente piacevole quindi detto questo io vi invito come sempre a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un like al video se vi è piaciuto vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme mettete un like mettete un like